buongiorno sono venuto a ritirare il manicotto di eso il manicotto di eso non hanno lasciato qua un pacco col manicotto frutteria di fronte alla pizzeria è un pacco un pacco per un mio amico non hanno lasciato niente no che mattina perché io non lavoro sempre qua si me l'ho detto stamattina vai là a prendere il manicotto questo è il manicotto no ma non è non è roba di frutti è un pacco non so questo manicotto posta un pacchetto perché uno che abita qua sopra non vanno lasciato niente no perché io ho sbagliato io no no via io in mattina non lavoro capito poi lo chiamo e poi sono un collega lavoro mattina pure a fatelo lavoro mattina io lavoro due ora non lo chiamo cellulare può essere fruttari alimentari bianco rente questo comunque manicotto questo non penso manicotto